Campo d'Arsego gli strappano il borsello con dentro 7.000 euro in contanti e spariscono vittima un 43enne venditore ambulante di San Giorgio delle Pertiche derubato ieri pomeriggio durante la chiusura della bancarella al mercato settimanale in pieno centro paese. A raggire due individui uno ha distratto il commerciante che stava sistemando la struttura esterna del banco mobile di gastronomia mentre l'altro è riuscito a sfilargli la borsa con dentro gli incassi delle ultime giornate di lavoro. I ladri sono quindi scappati a bordo di una Nissan Micra con al volante un terzo complice che li attendeva pronto per la fuga, indagano i carabinieri.